... Si siamo fermati adesso qui davanti a questo istituto professionale. Quindi credo vi dobbiamo portare sempre più le pressioni. In questo periodo vi riarmo più nelle scuole, facendo diventare un luogo proprio libero di esperienza e attività, di raggiungere come deve essere la nostra formazione. Non ci siamo, che alle nostre vede in giro nessuno sta, sappiamo. Le scuole ci insegnano che vi sto per il mondo. Pumbe il lato è esplodata. E non è anche questo, che non accorta l'Afghanistan, come se ti faccio a scape, che faccio un milione di altri. Per tutto il mondo è esplodata. SIGLA LA VITORIA! SIGLA LA VITORIA!